Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la seconda maglia del Marocco, la squadra che ha stupito tutti negli ultimi mondiali in Qatar, in versione FAN. La maglia da calcio Puma Marocco 2022 World Cup combina un colore di base bianco con una striscia centrale grigio chiaro che contiene il logo Puma verde e lo stemma del Marocco sotto. Il logo Puma su ogni manica è verde, così come lo scollo a V e i polsini delle maniche anch'essi rifiniti in rosso. Infine c'è un motivo geometrico circolare grigio chiaro al centro del davanti che è in linea con le altre maglie di trasferta 2022 di Puma per le nazionali. Realizzata con l'innovativa tecnologia Dreisel, questa maglia di Puma assicura proprietà antisudore che ti aiutano a mantenere una sensazione di asciutto e di comfort durante la partita. cosa ne pensate? A me piace molto, nella mia classifica questa prende 4 stelle, è sicuramente una maglia fatta molto bene, una maglia bianca con questa rifinitura nel doppio colore verde e rosso però veramente piacevole, da portare con un paio di jeans secondo me starà benissimo. Il costo lo vedete qui sopra, veramente molto basso, se poi considerate che in descrizione qua sotto potete trovare un link per avere un coupon da 3 dollari e quindi, voglio dire, si abbassa ulteriormente la spesa. In descrizione troverete tutti i dettagli per ordinare la maglia, andate a vedere sul sito quale altre fantastiche sorprese e maglie vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Io spero che possiate regalarci nel frattempo un grosso like, e dico veramente grosso eh, e che possiate iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.